Buona cornice di presenza cianciana per la quarta edizione della Sagra del Raccolto dei Grani Antichi, Cereali e Legumi, che, iniziata lo scorso 31 luglio, proseguirà fino a domenica 4 agosto. Spazio dunque alla promozione dei prodotti agroalimentari di alta qualità, con degustazioni, convegni e momenti di intrattenimento per celebrare la grande qualità delle cultive artipiche del territorio ciancianese. Questi i prossimi appuntamenti di rilievo, questa sera alle ore 20 si approfondirà il tema dell'agricoltura locale con il convegno Agricoltura quale futuro, seguito da uno spettacolo musicale. Sabato 3 agosto alle ore 21 e 30 show cooking con il pastaio matto Salvo Terruso, che elaborerà un piatto inedito a base di prodotti tipici locali, mentre domenica 4 agosto in scena la commedia Uta Butaro di Lucio Galvano, con l'associazione teatrale sotto le stelle presso l'anfiteatro della villa comunale. La sagra del raccolto dei grani antichi, cereali e legumi è proposta dall'amministrazione comunale di Cianciana, guidata dal sindaco Francesco Martorana, dall'assessore all'agricoltura Paolo Manzullo, dall'assessore allo sport, turismo e spettacolo Liborio Curaba e dalla regione siciliana con la partnership del movimento Terra e Vita. Le varie iniziative sono presentate dalla giornalista Rosa Abruzzo. La sagra vuole celebrare l'alta qualità delle produzioni agroalimentari del territorio. I grani antichi siciliani, i cereali e i legumi della reale agrigentino di Cianciana sono stati oggetto negli ultimi anni di una riscoperta e valorizzazione che fa leva sullo studio dei benefici che a questi prodotti sono riconosciuti nell'ambito di un'alimentazione sana e genuina. L'uso di questi prodotti infatti non solo valorizza il cosiddetto chilometro zero, ma ha portato a riscoprire un patrimonio di cultivar per lungo tempo dimenticate e di ricette che si legano alle antiche tradizioni popolari. Si punta in particolar modo alla valorizzazione del cece rosso di Cianciana, del pregetto tartufo dei Monti Sicani, del pistacchio della valle dei Platani e delle mandorle, olio e grani antichi che le aziende locali coltivano e producono con successo.